Io invece ripropongo per ora un pezzo tuo col quale diciamo chiudiamo questa serata ed è un pezzo naturalmente, no naturalmente dico perché non l'avevamo ancora toccato di Fracchia, tu sei la compagna di villaggio, vediamo, è un sogno di Fracchia. Eccolo qui la nostra Maria, eh, Maria sei, io ti faccio subito un complimento qui di fronte a tutti i nostri amici in ascolto, tu sei molto affascinante, sei molto bella, dimmi qual è, che simpatica è Maria, qual è il tuo segreto, tu hai un segreto, eh, com'è simpatica, senti, è bello perché Maria è sempre così sorridente, è sempre così allegra, senti Maria, ci vuoi parlare dei tuoi, ma indubbiamente dei progetti adesso, eh, no adesso ce li devi dire, noi vogliamo sapere quali sono i tuoi progetti, eh. Ma va bene guarda se proprio insisti, ti dirò che adesso farò un film con Bobby Solo. Per bacco con Bobby Solo, magnifico. E con la partecipazione straordinaria di Romina Pover e di Albano. Con Romina Pover e Albano. Per la regia di Franco Spotti. Per la regia di Franco Spotti. Poi naturalmente farò le solite serate a Sestola, a Montelago Fiorentino, e poi farò una tournée in Giappone per la televisione albanese. Perfetto! Un applauso, un applauso. Senti Maria, adesso, senti Maria, tu ci canterai certamente una canzone, no? Sei venuta qui a canzonessima per una canzone. Ma naturalmente. Eh, e quale, e quale canzone vuoi cantare? Beh, io magari canterei Amor Mio. Amor Mio, benissimo. E a chi la vogliamo dedicare? Lo vogliamo dedicare ai nostri, ai più piccini, ai piccini, oppure? Beh, io veramente la dedicherei a un mio amico. Ah, non i piccini, no? E chi è questo tuo amico, questo amico? Beh, questo non lo posso dire. Eh, no, è vero, no! Adesso noi lo vogliamo sapere, chi è questo amico, eh? È vero? Ve lo volete sapere? Mi sono messo proprio, proprio insiste, vi dirò che questo mio amico si chiama Gian Domenico. Si chiama Gian Domenico, e allora... Scusami, 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 non lo so, permette, permette. E allora, signore e signori, amici in ascolto, a voi, Maria Ruini, in Amor Mio, accompagna al piano il maestro Frecchia! Applausi Tu, amor mio, chi ti ha amato in questo mondo? Solo io. Io, invece io, sono stata troppo amata, ma noi due, amor mio, che siamo poco insieme, stiamo un po' di più. Tu, tu sei tu, più qualcosa, che ti è arrivata lassù. Amor mio, amor mio, bastoglio, amor mio, grandi braccia e grandi mani apro per te. Stretto mio, stretto mio, seno freddo, non avrai, no, tu non tremerai, non tremerai, amor mio. Applausi Ti vedo serissimo. Guardavo, guardavo, guardavo che succedeva. Una specie di zanicchi-mina, insomma. Un insieme. Una zanicchi quando è in prosa e poi in mina quando tanti. Comunque molto divertente questo pezzo. Grazie. Grazie. Grazie.